Allora, complimenti all'Inter che vince una partita molto importante in un momento molto delicato. Io credo che questa vittoria col Barcellona debba essere letta con attenzione e non voglio rovinare il giusto entusiasmo, la gioia dei tifosi dell'Inter, però anche con un pochino di cautela. Spiego perché la cautela. Perché, lo dicevamo proprio prima della partita, durante la nostra riunione di redazione, certamente la partita col Barcellona arrivava nel momento migliore della crisi dell'Inter. Fa ridere dirlo, no? Perché il Barcellona, uno dice già la squadra sbanda, figurati, arriva il Barcellona, pialla via l'Inter ed è finito tutto. Per fortuna non è successo così, ma non è così sorprendente in qualche modo. Provo a spiegarne la ragione. L'Inter ha dei problemi quando deve imporre il proprio gioco. L'Inter ultimamente è partita sempre troppo forte, quasi che dovesse dimostrare nei primi 20 minuti di avere scacciato ogni crisi. E questo è sempre un atteggiamento un po' di debolezza. Era immaginabile, e così è stato, che invece questa fosse una partita tatticamente più facile. Cioè, il Barcellona fa sempre la stessa partita, Inzaghi, che stupido non è, ha messo la squadra in difesa e ha giocato di ripartenza. Ecco, da questo punto di vista tattico, la situazione che si creava per l'Inter nel pre-partita, e che poi si è confermata nella partita, era la migliore possibile. Per l'Inter, come dire, è più difficile giocare contro il Sassuolo, in qualche modo, che contro il Barcellona. Perché il Barcellona ti aggredisce, tu ti chiudi e cerchi di ripartire. Come l'ha fatto? Benissimo. Bravo Inzaghi, da questo punto di vista, che ha azzeccato la mossa di mettere Cialanoglu. Una mossa molto criticata prima della partita, perché mi sembrava che Cialanoglu non potesse giocare nel ruolo di Brozovic. Invece è stato tra i migliori in campo e poi, diciamo, con questa capacità di inserimento, di sorpresa, l'Inter, che è riuscita a resistere nei decine, decine, decine di cross che sono piovuti nell'area, ha potuto usufruire poi degli spazi che inevitabilmente, in qualche modo, il Barcellona offriva. Il Bayern ha battuto il Barcellona più o meno nello stesso modo. Quindi, diciamo, la partita si presentava abbastanza facile, tatticamente, da affrontare, difendersi e ripartire, ma c'è qualcosa di importante che nessuno dava per scontato, cioè che l'Inter ha giocato una partita veramente attenta, determinata, concreta. Questo è particolarmente importante nel momento in cui sembrava che la squadra si fosse un po' sfilacciata. E si è vista quella concentrazione positiva che era mancata nelle ultime partite. Prendiamo un esempio di un giocatore che non ha fatto una partita memorabile, per quanto buona, Barella. Il Barella che si è visto finalmente nella partita di Champions League contro il Barcellona era di nuovo il Barella di inizio stagione, non tanto della passata stagione, non tanto perché abbia fatto delle cose meravigliose, quanto perché ha giocato una partita senza mettersi a litigare con tutti. Ecco, probabilmente questa presa di coscienza, che evidentemente qualcuno ha anche incentivato, probabilmente i dirigenti, lo stesso allenatore, in Barella, nel resto della squadra, questa squadra che sembrava così isterica, anche al suo interno, nella partita con la Roma è già stata un importante primo passo avanti. Sapere di giocare contro un avversario di prestigio, tatticamente superiore, diciamolo pure, più forte, considerato più forte, ha dato quella concentrazione che forse è mancata in certi momenti, quando l'Inter ha avuto la presunzione di spazzare via la Roma nei primi 20 minuti, salvo poi irritarsi, irrigidirsi, litigare, venire raggiunta e poi superata. Dobbiamo parlare dei giocatori che hanno fatto meglio. Beh, intanto c'è questo Di Marco, che sembrava la riserva della riserva, in qualche modo, che era arrivato come giocatore di complemento l'anno scorso, e che invece è una marcia in più rispetto a Gossens, dobbiamo dire ancora una volta deludente, molto negativa alla sua prestazione. Ma ecco, l'autostima di Di Marco, che Dio lo conservi a lungo in salute, soprattutto con questa esuberanza fisica, perché adesso lo stanno spremendo come un limone, è stata una delle note più positive dell'Inter contro il Barcellona. Continuiamo a parlare delle cose belle dell'Inter. Beh, diciamo, con Cialanoglu e con Di Marco, una difesa che è tornata a essere molto compatta. De Vrij ha fatto una partita eccellente, marcando Lewandowski. Skriniar è tornato allo Skriniar che c'era prima. Insomma, l'Inter ha dimostrato a se stessa, soprattutto a se stessa, che se non si disunisce, che se rimane convinta della propria forza, e si gioca con più calma, quella che mancava, no? Quella che predica tante volte Allegra e la Juventus e che nell'Inter sembrava essersi un po' smarrita, che è un ingrediente non essenziale, non unico, ma importante in una squadra, in una partita di calcio, in un momento della stagione. Ecco, un Inter più calma e un Inter che sicuramente ritrova poi quei valori intrinsechi che tutti le riconoscono in qualche modo. Vorrei però adesso approfondire il discorso sul portiere, su Onana. Beh, Onana ha fatto una buona partita. Dobbiamo dire la verità, ha avuto anche un pizzico di fortuna, perché sul gol che è stato annullato al Barcellona, diciamo, la sua uscita non era stata impeccabile. Se l'avesse fatta Andano, invece, ci sarebbe stato il plotone di esecuzione pronto a sparare. Però va detto altresì che Onana ha avuto una presenza in porta, una fisicità, un'elasticità anche, che insomma dimostra una volta di più che questo ragazzo non è una riserva. Questo ragazzo ha tutte le caratteristiche per diventare titolare e probabilmente è anche giusto dargli l'opportunità di sbagliare, di migliorare, di fare qualche errore. Giocare una partita sì e due no o tre no certamente non lo aiuterà. Ecco, l'Onana che noi abbiamo visto uscire anche coraggiosamente su palloni pericolosi, reagire distinto su tiri ravvicinati, è un giocatore che a questo punto deve avere la possibilità di fare dieci partite tutte insieme. E' arrivato il momento e probabilmente la prestazione in una gara così delicata per il portiere come quella contro il Barcellona, perché se è vero che il Barcellona tatticamente in qualche modo ha favorito l'Inter, che si è limitata a distruggere e ripartire, che è un mestiere nel calcio più facile che imporre il proprio gioco, ecco, la situazione però tattica era la peggiore possibile per un portiere, perché sono spiovute in area di rigore dell'Inter, n palle pericolosissime, traversoni in profondità, tagli. E Onana è sempre stato molto presente, molto reattivo. Quindi da questo punto di vista mi sembra un giocatore che ha il diritto di meritare una conferma almeno a medio termine. E questa deve essere una decisione che Inzaghi non può rinviare ancora a lungo. Chiudiamo invece con la partita in trasferta dell'Inter a Reggio Emilia, ecco, per dire che sarà più difficile. Sarà più difficile che con il Barcellona, perché l'Inter sarà chiamata a imporre il proprio gioco, perché l'Inter arriva dopo quasi un tempo supplementare in più, ho disputato, perché non dimentichiamo che l'Inter ha fatto nove minuti extra alla fine del secondo tempo e tre minuti alla fine del primo. arriverà stanca, un po' provata, ma proprio la calma e l'autocoscienza che l'Inter ha dimostrato con il Barcellona dovranno essere il viatico per una partita così delicata come quella in trasferta col Sassuolo. E cioè non partire di nuovo a 300 all'ora, come ha fatto troppe volte l'Inter, salvo poi trovarsi con la lingua di fuori e magari non aver segnato un gol importante. e magari anche subire un po' il gioco del Sassuolo e poi cercare di uscire alla distanza. Se ci pensate bene, per molto tempo l'Inter di Conte ha fatto questo, subiva molto il gioco della squadra avversaria, si diceva l'anno scorso, o meglio nella scorsa stagione, ah ma come è più divertente l'Inter di Inzaghi. Ecco, probabilmente l'Inter deve ritrovare un po' di bruttezza, paradossalmente, che spesso e volentieri però porta ai risultati più importanti. Grazie.